L'intervento di Marin che non riesce comunque a tirare, poi Merkle, poi Stolz favorito da un mancato recupero e l'Hamburgo pareggia, ha pareggiato l'Hamburgo al 26esimo minuto del primo tempo, al termine di quest'azione venuta fuori da un calcio d'angolo, ecco che la stiamo per rivedere, ecco il passaggio all'indietro a Furtok che realizza, ancora rivediamo, dopo il calcio d'angolo, passaggio di Cober all'indietro, Furtok realizza. Grazie